Signori e signore, buonasera e benvenuti al concerto del complesso bandistico Giuseppe Verdi di Castelbiscardo. Finalmente ci siamo ritrovati, finalmente siamo di nuovo in questa piazza con voi, con il nostro amato pubblico, anche se purtroppo in maniera ridotta a causa delle norme anti-Covid. Ed ecco la prima gioia che torniamo a suonare per cercare di portare un pizzico di normalità e dispensiatezza in questa estate particolare. Di titoli e slogan ne abbiamo letti tanti durante questi mesi, andrà tutto bene, io resto a casa, ma stasera l'unico titolo che conta è il nostro, io torno a suonare. E' importante tornare a farlo per noi e per voi che siete sempre stati presenti durante i nostri eventi e concerti. Ascolteremo ora come brano di apertura una marcia di Gioacchino Rossini, dedicata al sultano turco Abdul Medhi. Dirige il maestro Riccardo Bigini. Grazie. 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 Grazie.